Il Porcellum viola la Costituzione, il governo è illegittimo, l'articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza, tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge, anche in base alle opinioni politiche. Il premio di maggioranza fa sì che i cittadini che hanno votato la maggioranza siano più rappresentati nelle istituzioni rispetto agli altri, se i cittadini sono tutti uguali, premi non devono esistere, se i cittadini sono tutti uguali, sbarramenti non devono esistere, dare un premio a uno schieramento politico significa di fatto, discriminare i cittadini in base all'opinione politica, parliamo di un fattore discriminante che palesemente viola l'articolo 3 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno il diritto di essere rappresentati nello stesso modo con le medesime proporzioni, una madre ama i propri figli tutti allo stesso modo, la patria tratta i propri figli tutti allo stesso modo, il premio va dato a tutti o a nessuno.